cari amici questo brano lo dedico ad una persona speciale che si chiama marcello rosati e abita a monteleone di spoleto nella provincia di perugia marce stai all'ospedale stai poco bene e io ti volevo fare un saluto in musica ma prima di dedicarti un brano te volevo di una cosa quando un po di mesi fa sono venuto a monteleone che ti ho visto lì davanti al bar e ti ho detto che stai a smanichetta con facebook e tu mi hai detto come si dice facebook manco non so di c'è un cellulare che fa carburo mi ha detto il nokia quelli vecchi della volta ha fatto ridere questa cosa simpatica è piaciuta a tanta gente ti voglio di questo no alla fine ma sai quanto c'hai ragione tu averci un cellulare che fa carburo perché noi che c'avemmo i cellulari quelli moderni mica ci tornano i conti adesso sa mica cambiamo più tanto bene detto questo io te faccio tanti auguri di buona convaliscenza e ti dedico un brano simpatico che si intitola dove sta bene Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tanti auguri, Mercè. Alla grande. Forza. Via.